Musica Allora abbiamo il frontman del gruppo I brani che faremo questa sera saranno Aya che è il nostro inedito tratto diciamo dal nostro primo lavoro discografico diciamo tra virgolette ufficiale è un brano scritto per le donne, dedicato alle donne quindi... Vive le donne! Utilizzo come musa del... Musa ispiratrice? E' bello! E allora... Rida! A voi! Grazie! A presto! 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 A presto!